Grazie a tutti. La prima lettura ci ha presentato una figura del grande re Davide che è stato un precursore del grande messaggio di misericordia e di amore che Gesù ci offre nel Vangelo. Il suo grande nemico persecutore, Saul, era stato posto nelle sue mani, poteva tranquillamente ucciderlo e non l'ha fatto. Quindi non ha risposto al male, un altro male, non ha ricambiato il male per il male, ha detto lungile a me, alzare la mano contro il consacrato del Signore. Se giustizia deve essere fatta, e giustizia doveva essere fatta, la farà l'altissimo. E se uno vede il proseguo della storia, nel caso di Davide, l'altissimo ha fatto giustizia non solo nell'altra vita, ma anche in questa vita. Perché Saul ha fatto una brutta fine e Davide ha regnato su Israele al posto suo, e non per una settimana, ma per ben 40 anni. Capite? Quando ci pensa Nostro Signore, ci pensa sempre meglio. Nella seconda lettura, San Paolo ci ha presentato il segreto per entrare in ciò che Gesù ci insegna nel Vangelo. Ci ha parlato di un uomo terrestre, terreno, e di un uomo celeste. L'uomo terrestre rappresentato dall'umanità, che ha avuto la sua origine in Adano, e sappiamo bene che ha peccato, si è allontanato da Dio e ha causato la nostra decadenza. L'umanità nuova rappresentata da Gesù, vero uomo come noi, e per cui dinanzi a noi si prospetta un dolce orizzonte di vita. Vogliamo vivere ad Adano, cioè in maniera molto umana, come Gesù dice nel Vangelo, amare chi ci ama, che ci vuole. Sarebbe taformi, insomma, no? Fare del bene che ci fa del bene. Cosa c'è di straordinario? Questo lo fanno tutti. Ma cos'è? Qualcosa che non fa nessuno. E che ha fatto però Gesù per primo, perché Gesù da un buon maestro non ha soltanto fatto una lezione, sarebbe in catena, dicendo voi amate i vostri nemici. Io no, però, eh. Quando poi mi metto in croce le panciano, ed è io quello che le panciano. No, Gesù l'ha fatto prima. Capite? Gesù, come tutti i buoni maestri, prima parlavano con la vita e poi parlavano con la prova. Guai anche a noi, se parliamo con la lingua. E poi la nostra vita ci contraddice, si dice anche a parlare comune, no? Quando si predica bene, cosa per tutti, no? E si razzola, ma di guai, capite? E mettiamo un discredito anche sulla bellezza e sulla nobiltà dell'insegnamento. Quindi Gesù ci insegna qualche cosa che lo fanno tutti. La nostra vita cristiana non è quello che fanno tutti. Voi sapete che oggi diceva, questa cosa non c'è niente di male, lo fanno tutti. Ma proprio perché lo fanno tutti, è una cosa normale. Il nostro Signore non è venuto sulla terra per insegnarci quello che fanno tutti. Perché quello che fanno tutti, non c'è sempre che c'è stato qui. Ce l'abbiamo domani tutti i giorni. Basta portare la nostra povera vita e quella di qui ci sta intorno. Gesù ci insegna qualche cosa di oltre. Allora, che ci insegna? Adesso dobbiamo liberare il nostro cuore dalle chiusure, capite? E dalle pre-illusioni. E non pensare che queste siano cose impossibili. Perché Gesù le ha messe in pratica. La Madonna le ha messe in pratica. E tanti nostri fratelli e sorelle di fede, che ci hanno preceduto, ma che sono viti anche oggi, vivono queste cose. Per cui queste cose non sono impossibili. Sono un ideale alto di vita. Sono un ideale che possiamo raggiungere. Perché Gesù non propone metri in raggiungere. Allora, amate i vostri nemici. Dicevo quando abbiamo fatto l'incontro biblico su questo Vangelo. Chi di voi, se vede una persona che gli vuole male, sente un sentimento di amore? Mi sono innamorato di quella persona che mi era fatta tutti con lui. Alzi la mano se qualcuno si innamora delle persone che gli fanno del male. È possibile, no? Quindi Gesù non ci comanda di innamorarci che ci fa del male. Ma dice, amate i vostri nemici. Cioè, fate del bene a coloro che mi odia. Questo si può fare. Se io sono una persona che mi odia, e so che per esempio ho bisogno di aiuto, proprio una persona che mi odia, io posso dire, sì, mi odia, ma la voglio aiutare. Anche se dentro il mio cuore sento un combattimento di amore. Mi devo forzare a fare una cosa di questo genere. Ma se vuoi, lo posso fare. Non so se lo vedete mai fatto in vita vostra. Perché bisogna vedere quelle facce che fanno le persone. Che si sentono aiutati da noi, sapendo che ci vogliono. Tu, proprio tu, è da divertirsi con le facce che fanno, capite? Questo si può fare, capite? Questo si può fare, ed è bellissimo farlo. Bisogna provare, e dire anche la gioia che si prova a fare una cosa di questo genere. Quindi proprio a fare del bene ad una persona che non si romenica, come dice Gesù. Ad una persona che si chiederebbe che tu la prendessi a schiaffi per il male che ti ha fatto. Non lo fai, e non soltanto fai come Davide, no? Non reagisco. Ecco lo scarto che dà Gesù. Davide non ha reagito, non l'ha ammazzato a Saulo. Gesù diceva una cosa di più, fai una cosa positiva. Capite? Sapete quando stavo in seminario che mi diceva, dico anche ai miei cari ragazzi che stanno qui davanti, il padre spirituale, diceva, padre c'è sta sto seminarista che mi sta proprio attivati, meno avete meglio sto. Capitano queste cose, no? Mi dice, beh, lo sai che ti devi fare? Ti siedi la prossima volta a pranzo e a cena vicino a lui, prendi la bottigata e gli metti un pochino da fare qui. Mi stavo insegnando come si fa a mettere in pratica il Vangelo, nel piccolo, non bisogna immaginare le cose grandi, no? E' un pochino che mi assicuro, che prendi quella bottiglia e lo lasciare con l'acqua, e prendi un mare, mazza, insomma, dicono a Roma, però dopo che l'hai fatto, sta in bene, perché vedi quanto è bello vivere il Vangelo. Poi, benediti coloro che ti maledico. tu sai che la persona ti parla male dietro? E tu parli bene dietro. Dici, ma non faccia parlare bene di questo, non ce n'è uno, ma qualche cosa di buono, che ti perdi un po' di tempo a scoprire, almeno una cosa buona che fa, e guardate che anche la peggiore persona della faccia della terra c'è qualcosa di positivo, e tu parli bene. Non scendere al livello di parlare male, lascia che parli, tu parla bene. Non ti vendicare, capite? Perché non è che questi vendicari, intanto, ma ha parlato male, e io ti parlo male. Poi, pregate per coloro che vi maltrattano, cioè per quelli che vi trattano male. Una bella preghiera per loro, e per loro come se, attenzione, pensiamoci, eh, quando preghiamo con i nostri, tra virgolette, nemici, che non è che sono nemici perché noi li odiamo, ma sono nemici perché gli altri ci odiano, eh. Noi dobbiamo sempre dire, io nemici non li ho, forse c'è qualcuno che considera me, che sono nemici, ma per me sono tutti amici, come vuole Gesù. Pregate per quelli che ti trattano male. Pensaci, no, non ti prego, signore, per Francesco, che mi tratta tanto male, che tu lo riempi di grazie, di benedizioni, che gli doni la grazia della conoscenza del tuo amore, e il dono della salvezza eterna. Così si fa. Qual è il segreto che sta dietro questa salvezza? Qual è il grande insegnamento che c'è da Gesù, e che dobbiamo ritenere? Gesù ci dà uno stile di combattimento. Il male esiste nel mondo sia il male. Sì. Cosa ha fatto Gesù nei confronti del male presente nel mondo? Se l'è preso su di sé, e ha risposto al male col bene. e ci ha dato un segreto. Vuoi vincere il male? Bene. Tanto il male che viene fatto, e quanto il bene che devi opporgli, e anche di più, sovrastalo, distruggilo, opponendo, dilagare nel male una montagna di bene. Questo è il segreto. perché starai meglio tu, ed è l'unico modo con cui il male perde ogni vigore e ogni forza. Questo Gesù ha fatto, e questo ci insegna. Qualche altro piccolo corollone, un po' concludiamo, abbiamo ancora un pochino di tempo. La parte finale del genere, mi raccomando, siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre nostro, questo riguarda i nostri rapporti con il prossimo, non giudicate, non condannate, perdonate e date. Queste cinque parole. La misericordia, chi di noi, davanti al nostro Signore, potrebbe presentarsi dicendo, o che è il Padre di sé? Ah, io sono perfetto. Non c'è niente di farmi perdonare. C'è qualcuno che c'è la faccia di fare, di presentarsi così davanti al Signore. E guardate che se noi pensiamo di essere giusti, dobbiamo preoccuparci. Perché pensiamo di essere giusti, perché non ci conosciamo bene, non perché lo siamo realmente. Perché sul pianeta Terra, i giusti non esistono, ne sono preoccuparsi solo due. Uno si chiamava Gesù, e con l'altra si chiamava Maria. Tutti gli altri stanno su un'altra dimensione. Capite? Quindi noi giusti non siamo. Non giudicare che significa. Non pensare sempre a male delle intenzioni del prossimo. Cosa che gli uomini fanno dalla mattina alla sera. Non condannare che significa. Perché una persona che ha sbagliato veramente, quindi che l'ha fatto una cosa negativa. Vi ricordate l'adultera? Nel Vangelo l'adultera l'avevano beccata a fragranza di all'interno. Quindi aveva tradito il marito e era un'adultera. D'accordo? Avevano beccato che era molto almeno la promessa matrimoniale. Cosa ha detto Gesù? Chi di voi è senza peccato cominci a scagliare da dietro. Quindi quando vediamo qualcuno che fa veramente qualcosa di male, preghiamo. Non ci mettiamo il calico da unici. Non affibbiamo facili condanne. Perché Gesù ci dice la vita di questo paragrafetto. state attenti con la misura con cui misurante sarà misurata poi in campo. Sei stato spietato per condannare? Bene, quando vorrai davanti a me io condannerò fino all'ultima virgola tutte le cose che hai fatto. Sei stato da l'iente nel giudicare? Bene, io davanti a me ti farò pagare pure le quisquiglie, pure le imperfezioni. lo dice Gesù non hai perdonato? Perdonatevi, sarà perdonato. Neanche io ti perdonavo. Ricordiamo la parambola del servo spietario. Quello che aveva avuto una remissione di una montagna di soldi e c'aveva un poveraccio che era anche debitore di quattro soldi l'ha preso per cosa che paga quello che dì. Quando si è preso e tolta, ma tu stai fuori di testa. Ma io ti ho ripreso un patricone e tu ti metti affermato per due live. Via. Capite? Quindi, cosa sta dicendo Gesù nel concludiamo? Sta' attento. La misura o la misura il prossimo sarà quella che userà la misura le pere. Chi di noi non vuole avere misericordia da Dio, non vuole avere perdono da Dio, non vuole avere premenza da Dio per quello che abbiamo fatto tutti. Questo è quello che dobbiamo fare nei confronti del prossimo. E' l'ultima norma di vita. Attenzione, il proverbio pubolare dice non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Questo lo conosciamo tutti. Anche qui Gesù dice non basta non fare il male ma occorre fare il bene. Ricordate quante volte Papa Francesco ha sottolineato questo punto. Noi non siamo cristiani solo se non facciamo niente di male o più spesso pensiamo di non fare niente di male perché non lo sappiamo. Ma se facciamo tutto il bene così, non basta che tu non fai avanti a quello che non vorresti fosse fatto a te. Fai opera, agisci, fai quello che tu trovando in quella situazione vorresti che gli altri facessero con te. E' una bellissima vita. Non pensiamo che è possibile perché questo Gesù l'ha fatto e tanti santi dietro a Gesù e sulle sue orme lo hanno fatto. Basta semplicemente scegliere se vogliamo vivere secondo l'uomo terrestre, secondo il così fatto di o secondo l'uomo celeste. La più brava a mettere in pratica questo Vangelo è stata la Madonna. Chiediamo sempre il suo sostegno e il suo aiuto per poterlo vivere felicemente nella nostra vita. Siamo notati Gesù e Marina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti